E' veramente sintomatico che quando un autore, chiunque so sia, anche di riconosciuta incredulità verso il cristianesimo e il cattolicesimo, si accosta a uno di questi testi sacri, diventa Dio anche lui, o Dio lo fa vedere. Questo è uno dei più peccati a Palavoli, è una cosa da solo per la parte di compagni, non si fa così. Questa non so che cos'è, la cattedrale, una preghiera, una subito, non lo so, 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 non lo so. Cominciamo a ricompiamoci, che cosa si deve fare per farlo diventare, per nobiliare. E non le fai tutte per diventare, e anche bene. Il primo problema è che non le farà. Per attenzione, perché tutto quello che sta intorno è importante, non puoi fare questo bene, questo è... ma fruttate. Non puoi uscire fuori da questa regola, tutto deve essere chiaro, evidente ed espressivo. E' difficile fare quel primo fa diesis, che è melodia, e poi rifarlo come a morire. Già questo squilibria le, squilibria tutta la posizione della mano, ed è difficilissimo tenere le. E poi viene così, un po' viene lì. E poi va studiando con una pazienza certosina, proprio con i paraocchi, come quelli... Non fare l'ammusione così come li, perché se no viene una frittata, mezzalata. Avere la pazienza, il boccasso, le mani studiate. Ma poi la me lo dico. I doppi si la schiaffi dopo la me lo dico. Prima devi fare questa. Perché fare? Teni si accorti che era così e così. Non era preciso. Se non c'è questa precisione, questo è il motore, questa è la corzeria, questa è quella che si muove, o si muove bene, oppure l'altra cilindra. Questo è il motore, e questo è il motore. Vedi, quello che scrive l'autore... L'ordine questo! qui c'è oh signore con una fede latente che si vede che distratta l'armi è tutta una preghiera è tutta uno strazio ti fa presupporre che sta per sorgendere una grande calamità una guerra di terremoto la fede del mondo e pensa un popolo raccogli in una chiesa, una grande cattedrale che prega e poi in questa cattedrale c'è il predicatore che fa ma questa è un'invocazione se lo fai e così è suonato tu devi urlare tu devi incendere tu devi incendere tu devi incendere tu devi incendere e così è successo tu devi incendere tu devi incendere tu devi incendere non si è scordato a termine non c'è scritto niente c'è la legatura ma la legatura deve stare più sul porno quando non riuscite a capire la musica provate a mettere le parole sotto quelle più appropriate qui dovete trovare delle parole non mi devo dire che è bello mi piace signore madonna che strazia non potete dire madonna madonna che strazia signore perdona perdona no di riuscire a capire di quella tristezza di quella paura di quello indecisore attenzione vi suggerisco anche qualche cosa anche per quelli che non lo faranno a questo pezzo e quelli che lo faranno come avevo detto ieri quando si trova un effetto espressivo bisogna cercare di non ripetarlo di mutarlo noi abbiamo questa e che possiamo fare questa sarebbe la regola però come nell'universo esistono i buchi neri dove si dice che ci sono i contrari del nostro mondo dovrebbero essere capace nella nostra deputazione musicale di creare degli opportuni buchi neri cioè che vanno al contrario di quello che dovrebbe essere allora vi do un esempio la regola perché questo è un tempo forte oltretutto è l'appoggiatura che fa presupporre una parola piana madonna santa o che paura non è o che paura o che paura non si può fare serve darsi un buco nero avremo un esempio qui no spostato leggermente dall'acente già ho tenuto una varietà una varietà del linguaggio capite? è una pensieria ma è pieno una cosa di più nell'altra una cosa di più sto dire io faccio un bel arpeggio qua non è perché non ce la faccio con la mano perché c'è un motivo scientifico razionale ieri abbiamo parlato delle dissonanze consonanze la serie di accordi esaminiamo che succede questa battuta in armonica bene è un'appoggiatura allora dobbiamo aspettare il tempo ma mentre questo va a tempo questa è un altro quindi questo ha finito la sua funzione e invece qui viene insieme si faccia come film quando è stupido avete capito? dicevano Rovitz no non è io 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 qui è indispensabile c'è una logica c'è una logica c'è una logica questa deve essere una cosa che dà l'impressione di un sentimento olleggiante tra la paura la speranza il dolore è come se andassi da destra a sinistra è come il sentimento di un popolo non di una persona questo è il corale è il corale ora io mi chiedo a questi musicisti a cominciare da Bacca ma ci credevano veramente di io non lo so vabbè io ho fatto il chiede di Ghetto quando ero piccolo ho servito la messa ancora mi ricordo intruivano dalle dei poi naturalmente è diventato più moderno per stare con i tempi all'amoraggio ho smesso di credere e penso che questi qua nello stesso mondo ma com'è che com'è che quando scrivono qualche cosa me ne è detta la nostra religione ha prodotto questi capaboli me ne hanno scritto l'apertura della scrittura dice anche non ci sta niente di questo per essere umano non può fare almeno di Dio ma io non lo so ma è una cosa ma allora o erano loro Dio oppure sono stati in grado di renderciolo perché la profondità di questa sacralità di questo mistero è ossessante così va bene non mi voglio perdere io non ho fatto sto solo sugli altri che lo so più non voglio dire costruirà allora poi andiamo in la musica mi raccomando mi raccomando e non sempre poi la mia vita si infundisca i torri mi raccomando Poi una regola fondamentale della logica armonica, quando vi trovate a ripetere la stessa nota con due accordi diversi, vi dovete fermare, vi dovete fermare e dire questo è calabrese, questo è siciliano, c'è lo stretto di Messina in mezzo. Esepio. Qualcun sia proprio. Questo è finito, l'espessore si va all'aria. Oltretutto quando c'è in una battuta una serie di modulazioni che va esplicitamente definita, non potete scappare, dovete rallentare fino al massimo. Oltretutto. Qui vengono quei momenti specialistici proprio che danno l'impressione della processione interna della chiesa. Passare di momenti. Il ritmo deve rimanere il più possibile inflessibile. Tranne quando devi cedere qualche cosa all'eservenità della destra. E qui così girasse di un'altra parte. Passare di momenti. 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 E' un pedale, ma già è perfetto di cappare qua. E' un pedale, ma già è perfetto di cappare qua. E' un pedale, ma già è perfetto di cappare qua. E' un pedale, ma già è perfetto di cappare qua. E' un pedale, ma già è perfetto di cappare qua. E' un pedale, ma già è perfetto di cappare qua. Franck, notorio, è stato un adoratore di Wagner, del crobatismo vagleriano. Il crobatismo vagleriano è, per Antonomasia, l'espressione dell'amore carnale, proprio della passione sanguigna. E' un pedale, perché i tristani sono da queste. E' un pedale mortale, che perlomeno è un pedale mortale, che perlomeno è un pedale mortale, che perlomeno è un pedale mortale. Ma poi, a metà del primo anno, quando Tristano beve quello che si crede sia il liquido dell'amicizia, invece di soltanto la fregata che andava alla sua, lui dice, mettilo un beleno e fanno morire. Non si sa, nessuno mai ci ha detto se Bragani sbagliò a posto, oppure a posto del beleno e mi disse questo pedale da voi. Certo che è una scena terrificante, quando Tristano beve, esota, ristrappa la coppa dalle mani e beve lei, e il resto sicuro di morire anche lei. Non fanno qualche altro passo, c'è l'altro. E questi come ubriachi. E alla fine si scalano uno e ne lascia l'altro. Basta, sei un amore furioso, non è vero che alla nave arriva in porto, al re, questi stanno lì per terra, stanno per fare le cose, e arriva il re Marche, quelli che li coprono, va bene, niente di Dio. E' impazzito. E lui scrive secondo quel criterio. Ora, è un po' strano che se questo è un uomo con un frate, che sta lì per lavorare. Che razza di frate, fossero uno di quei frate. Guardandolo bene questo frate, c'ha un bel naso rosso, che vuol dire che gli piace tringare la panza dai ceccoli, qualche cosa altro non dico. perché il misto di questo discorso è che il frate è il cannale, e il cuore invece è purissimo. non c'è un mascomatismo, un po' niente di Dio. E' un motivo di un dolore terrificante. però io mi piano prende. E se hai costruito mentalmente? Prendete tre interventi. Il primo così, poi il terzo urlando, questo è il solo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E dopo vedremo che questo è un suggerimento esatto per i motivi del regolo D. Grazie a tutti. 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 E per questa cosa grande, diminuire una cosa terrificante, non può diminuire la fama che lo dice lui, deve essere fortissima. Non c'è nulla, non c'è nulla. Prima. . . Mio. . 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.